Hai mai pensato? 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 Hai mai pensato che le Alpi Apuane sono uno dei 43 disastri ambientali più grandi al mondo? Hai mai pensato che ogni anno vengono estratte più di 4 milioni di tonnellate di montagna? Hai mai pensato che il 90% del materiale estratto è di scarto? Hai mai pensato che nella provincia di Massacarrara solo l'1% della popolazione lavora nella filiera del marmo? Hai mai pensato che l'80% del marmo estratto viene ridotto in polvere? Diventa carbonato di calcio per usi industriali? Hai mai pensato che solo lo 0,5% del marmo estratto è destinato a opere d'antide? Hai mai pensato che ogni anno paghiamo 500.000 euro per depurare l'acqua dagli inquinanti di cava? Hai mai pensato che abbiamo subito 8 alluvioni in 20 anni per il dissesto idrogeologico dovuto anche all'escavazione? Hai mai pensato che in media ogni anno muore un lavoratore in cava? Hai mai pensato che le Alpi Apuane sono un paradiso di biodiversità? Hai mai pensato che le Alpi Apuane sono uno dei sistemi carsici più importanti d'Italia? Hai mai pensato che le Alpi Apuane sono il bacino idrico più importante della Toscana? Alpi Apuane sono un po' di un bel 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 Grazie a tutti.